Piacere, non lo dico per dire, mi fa tantissimo piacere aver visto i miei compagni di gruppo e di lavoro di Fortunata e non solo, persone tra di voi che hanno attraversato e sono rimaste nella mia vita in questi anni e mi piacerà incontrare altri di voi, spero. Sono molto grata, parlavate di un lavoro invisibile, non voglio essere retorica, ma è un lavoro che noi vediamo molto bene, penso anche il pubblico. Grazie a tutti per aver scelto. Anche voglio ringraziare tutte le persone che hanno lavorato a questo film, che però è la stessa truppa che mi accompagna a molti film, che è la truppa in cui lavora sempre Riccardo, Milani, in questo caso registro del film, poi è anche uno che frequento, diciamo. Però, adesso ho detto così davanti a tutti, però davvero penso che se ogni tanto, grazie per questo premio, se ogni tanto riesco a fare delle buone cose, un buon lavoro perché sono stata ben diretta, perché ho degli strepitosi compagni di lavoro, ma soprattutto perché il personaggio è stato creato perché sono stata ben vestita, ben truccata, ben illuminata, ben pettinata, ben ripresa. Quindi questo è veramente un bel lavoro di squadra. Grazie.